Un pari in rimonta, sofferto ma voluto e alla fine ottenuto. Un punto che oltre a muovere la classifica fa molto morale in una sfida tutt'altro che facile contro un lanciatissimo Crotone. Tegole in casa Virtus, la prima annunciata, cioè l'assenza di Ferrari. La seconda, last minute, cioè l'assenza per problemi muscolari ad un flessore della gamba destra per Amenta. Marilungo gioca centrale d'attacco con piccolo a destra e Di Francesco a sinistra. Come mezzala c'è ancora Vastola, mentre in porta va Casadei, solito Crotone che sale in Abruzzo per fare risultato. Prima della contesa, inno nazionale francese, minuto di raccoglimento e tanti applausi da parte del 2500 del Biondi. Gli stessi 2500 che sempre con tanti applausi ricordano Lorenzo Costantini, l'ex capitano della primavera russonera. La sfida, il primo a fondo del Crotone, al quinto, girata di Budimir in area smorzata e parata a terra di Casadei. Senza problemi al settimo acuto Frentano, corner di Mammarella e palla che arriva piccolo, che prova a sorprendere Cordaz dalla distanza, ma non c'entra lo specchio della porta. Si rivede il Crotone al minuto 18 che ottiene un corner contestato dai rossoneri, ma il corner sarà determinante. Lo calcia Stoian, palla al centro dell'area dove c'è Ricci che spinge in rete, sorprende e va ad esultare. Sotto la curva Nord, al 27esimo un'altra occasione per il lanciano piccolo, da metà campo avanza, palla al piede, offre un suggerimento a Marilungo che conclude da posizione defilata, ma il tiro è alto. Al 29esimo il brivido alla Virtus lo crea il Crotone. Zampano riceve un traversone dalla corsia di sinistra e conclude di prima intenzione in porta, ma si mola Mammarella che devia in corner. Al 33esimo, altra occasione del lanciano sul rovesciamento di fronte. Di Cecco disegna una traiettoria al centro dell'area per Vastola che impatta la sfera di testa, però non la spinge. In rete al 34esimo, ancora Lanciano vicino al pari, questa volta però è la traversa a salvare il Crotone. Cordarts nel finale di prima frazione, una simulazione di piccolo che viene ammonito e una punizione di Mammarella che si spegne sulla barriera. Saranno gli ultimi acuti del primo tempo di Lanciano. Crotone ripresa subito, un avvicendamento fuori di Francesco nella mischia. Lanini all'ottavo, l'occasione del Crotone con Budimir è clamorosa per raddoppiare, ma in qualche modo il lanciano. Si salva nella mischia anche Padovan per Marilungo ed è questo il secondo avvicendamento. Al 18esimo è una sassata di Stojan messa in corner di Casadei a mettere i brevidi ai frentani. Al 33esimo una palla persa da Padovan, innesca una ripresa del Crotone ma con poca convinzione si presentano sotto la porta, difesa da Casadei. Nel finale da Versa richiama Vastola e completa il trist dei cambi mandando in campo Luca Di Matteo. Al 40esimo Bacinovic offre un pallone d'oro a Lanini che si presenta di fronte a Kordaz che però lo devia in corner dagli sviluppi del tiro della bandierina. L'azione insistita del lanciano si esaurisce con una sassata risolutiva di Antonio Piccolo da fuori aria che ristabilisce le parità. Piccolo in pieno recupero avrà anche una palla d'oro per fare il colpaccio ma in corner ci si salva. Il crotone e finisce così un pane in rimonta che fa classifica ma soprattutto fa morale.